Hello everybody! Ciao a tutti! Oggi sono qui per farvi vedere come creare un outfit dalla mattina alla sera per stare al mare partendo dal mio pigiama. Ho questi pantaloni blu leggerissimi e comodissimi di Oisho e una semplice maglietta grigia perché io dormo in pigiama così, molto semplicemente. Ma ho deciso che avrei potuto riutilizzare i pantaloni del pigiama con il mio costume da bagno, tipo così. Così, infatti ho tenuto i pantaloni del pigiama e ho questo costume di Oisho che è coloratissimo e intero. E così viene un outfit molto molto carino per andare in spiaggia al mare. Però ho pensato, ma se io volessi mettere il mio costume intero, anche come body, e abbinarlo a dei pantaloni per fargli un giro sul lungomare o piuttosto che in città, potrei fare perfettamente? Ho questi pantaloni jeans blu scuri di Manassan e le Vans nere perché sono sempre comode per andare in giro in città. Ma ho anche pensato, perché non potrei mettere un costume da bagno anche alla sera? Voglio dire, sono al mare e potrebbe essere divertente come cosa. Quindi è uscito fuori questo. Ho questi pantaloni di Brandy Melville vellutati, sono bellissimi e comodissimi e super eleganti. Ho tenuto il mio costume, come vedete, e ho abbinato la fantasia alla fantasia delle mie jeffrey, che sono sempre quelle floreali che avete già visto. Inoltre, siccome a sera non è che potete andare col costume e basta, ho abbinato anche questo golfino bianco di Abercrombie, ma qualsiasi golfino bianco va bene, che potete tenere lungo oppure semplicemente a livello. Quindi, ricapitolando, siamo partiti stamattina dal nostro pigiama. Siamo andati in città al mare e siamo anche usciti alla sera con i nostri amici, indossando sempre lo stesso costume e abbinandoci un paio di pantaloni sempre diverso, un paio di scarpe o addirittura un golfino da legare in vita. Come al solito, vi ricordo di mandarmi un vostro outfit utilizzando un costume intero con l'hashtag Lea Outfit su Twitter, Facebook, Instagram, dove più preferite. E, inoltre, di mandarmi anche un capo d'abbigliamento strano che non siete ancora riusciti ad abbinare con niente, e dico niente, nel vostro armadio. Per questo video è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo!